Agli inizi del Seicento Napoli era una delle città più popolose dell'Europa, una crescita demografica straordinaria alla cui base c'era un aumento della natalità, un esodo massiccio avvenuto dalle campagne verso la città in cui erano interessate tutte le classi sociali. Napoli era quindi ricettacolo di una serie di umori, centro nevralgico di un regno fatiscente con un re lontano, considerato alla stregua di una colonia, un regno con un tessuto sociale suddiviso in classi disomogenee e non equilibrate. Il popolo e la dimensione popolare assumono in questi anni un ruolo centrale. La piazza è il fulcro dell'attività popolare, luogo in cui convogliano idee, pensieri, malumori e si concretizzano in azioni, nelle piazze avviene il mercato, lo scambio dei soldi e il pagamento delle gabelle e anche palcoscenico delle rivolte. Secondo l'etimologia il termine era già in uso nel vocabolario napoletano, usata per i più poveri, lebrosi e spesso ai margini della vita sociale. Ma proprio i lazzari furono i protagonisti della rivolta del 1647. A definire la figura del lazzaro napoletano vanno aggiunte alcune caratteristiche legate al carattere sempre, allegro e furbo, incline ad impegni ideologici e politici, incline al ribellismo. Insomma il clima che si respirava Napoli in quel periodo era carico di tensioni pronte ad esplodere in una rivolta. Contrasti e differenze di classe sociale che si facevano sempre più accentuati alimentavano come un fuoco. Invisibile le classi più povere. Protagonista in quei giorni è un giovane pescivendolo, Masaniello. Questa sua rete di conoscenze lo aiutò a mettere in atto quella che poi è divenuta una rivolta di classe. Oltre a Masaniello i protagonisti della rivolta furono i lazzari, ceto bassissimo della popolazione napoletana, esasperati dalla tassazione che colsero la palla al balzo per farsi sentire e manifestare la propria presenza nel tessuto sociale della città. Molti cronisti dell'epoca confermano che Masaniello fosse la mente della rivolta e avesse premeditato tutto anche in risposta all'arresto per contrabbando della moglie. Già a giugno si erano verificati episodi violenti di cui Masaniello si era proclamato esecutore. Ma era solo un preludio, nella Napoli del 600 i primi giorni di luglio si festeggiava la Madonna del Carmine, il luogo dei festeggiamenti era la piazza del mercato nel quale sarebbe convogliata tutta la popolazione, risultava il momento perfetto per una rivolta. Domenica 7 luglio 1647 i venditori di frutta in piazza del mercato rifiutano di pagare, a gabella provocando una serie di schiamazzi, urla e vociare che si protrae fino al pomeriggio e non si placa nemmeno con l'intervento di un funzionario, un certo donna Clerio. Una serie di atti violenti che culminano con uno schiaffo al cognato di Masaniello sanciscono l'inizio della rivolta, sul finire della sera. La folla si addensa intorno al luogo dell'accaduto e Masaniello che si fa spazio tra la folla urlante, subito viene individuato come capo e guida. Il corteo si dirige verso al casa del vicere e non incontra ostacoli, una volta arrivati lo stesso vicere, impaurito dall'impeto della folla, si dimostra disponibile ad abbassare le gabelle per tentare di placare la folla. Terminato il primo giorno di rivolta terminò in maniera pacifica ma la folla tornò alla carica il giorno seguente, luglio. Se il primo giorno avevano usato armi di fortuna per lo più sassi e bastoni, in questo lunedì di luglio, la folla decise di armarsi con armi più adatte, iniziò la fase vendicativa della rivolta. La folla prese d'assalto i gabellieri, i signori ricchi e i baroni che animavano le strade di Napoli. Il vicere ed i nobili si mostrano stranamente accondiscendenti, tanto che tra la folla si diffonde la notizia che le concessioni siano fasulle. Masaniello, nel frattempo, viene acclamato e accolto come liberatore del popolo di Napoli, il governo provvisorio che viene instaurato in questi primi giorni di luglio all'impronta di Masaniello e del suo consigliere genuino ma sembra procedere pacificamente. Il 10 luglio però le azioni violente riprendono, Don Giuseppe Carafa, fratello del duca di Madaloni, fatto prigioniero nei giorni precedenti come risposta ad un attentato ordito ai danni di Masaniello e del popolo, fu decapitato in piazza Mercato. Tra le 11 ed il 13 luglio Masaniello continua ad essere capo del popolo. La situazione in città sembra calma. La situazione di emergenza sembra rientrata nonostante la folla noti Masaniello segni di pazzia. Ad interrompere la situazione di relativa calma scaturita dopo la firma dei capitoli e l'uccisione di Masaniello, pochi giorni dopo. Il corpo di Masaniello viene recuperato, gli viene offerta una degna sepoltura tra la riconoscenza della gente che lo vorrebbe santo. La sua determinazione gli fa guadagnare rispetto agli occhi del popolo. Le sue rivendicazioni faranno in modo che verrà proclamato capo del popolo e verrà visto come liberatore di. Napoli e la sua fama non si è spenta neanche dopo la sua morte.